Potente appara ragazzi, qua vaxtro, oggi mi piace, oggi sono il sole e sono qui a presentare questo mio nuovo video Che ragazzi sarà un nuovo video veramente veloce, perché? Perché innanzitutto come ben sapete oggi è venerdì Ed essendo venerdì, come credo molti di voi sanno, io a scuola faccio otto ore Che vuol dire che torno a casa alle quattro e mezza e poi alle sei meno un quarto devo già uscire poiché ho gli allenamenti Ed anche appunto faccio otto ore a scuola, torno abbastanza stanco Quindi la maggior parte delle volte non faccio il venerdì un video abbastanza impegnativo Proprio perché sono anche abbastanza stanco e dato che non volevo portarvi un video appunto diverso dagli ultimi che sto facendo Quindi magari ultimale, però dove non sembro diciamo informissima ho detto io devo caricare un video Però devo caricare un video che ovviamente non mi costi neanche tanto farlo perché tra un quarto d'ora io devo uscire Quindi un quarto d'ora devo farlo, editarlo e caricarlo, mi sembra una cosa abbastanza tattica Quindi ho chiesto alla base da Facebook se vi andava bene che io facessi un pack of the day Oppure se preferivate che oggi non facevo niente vi caricavo domani un altro video E voi mi avete detto che andava benissimo il pack of the day Quindi eccoci qua se vi state chiedendo anche perché indosso il cappuccio Allora innanzitutto forse non so neanche se sarà la facecam perché appunto mi sono messo una felpa Dato che mi stavo preparando per andare a calcio E poi se invece si punta nel caso in cui ci sia, ho trovato il siena ragazzi il siena lo trovo sempre Nel caso in cui ci sia è perché non ho, cioè veramente, sono stanco quindi ho anche i capelli tutti un po' fuori posto Una cosa abbastanza tattica diciamo Quindi il primo pack of the day Non abbiamo aperto niente Siamo solo a 1 minuto e 38 Non posso farmi durare così poco Quindi andremo ad aprirne altri due Facciamo Allora dai Alba Dai Alba Ah si no, colgo anche l'occasione per dirvi un paio di cose se non ne erano, non abbiamo trattato nulla Allora innanzitutto il video che ho fatto ieri sera per lo special dei 30.000 iscritti Quando uscirà? Uscirà credo molto probabilmente lunedì Quindi appunto vi chiedo non continuate a chiedermelo Seconda cosa, seconda e ultima cosa Intanto prendiamo l'ultimo pacchetto Il video, o meglio in questo weekend credo al 80% di caricarvi un po' di scitella Quindi domani pac... domani pac... domani pac... domani pac... ehm... domani Pink Vale Dopodomani potiscitella e lunedì video speciale Tecnicamente dovrebbe essere questo il mini calendario che ho in mente Quindi andiamo ad aprire veramente adesso l'ultimo pacchetto Mi riscuso per avervi fatto questo video abbastanza veloce Vi ho già spiegato le motivazioni Spero appunto che mi scusiate Magari troviamo anche qualcosa di bello Infatti non è così Quindi ragazzi diamo un bello Spero che il video così veloce vi si è piaciuto Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Un bel commento Magari se riusciamo arriviamo anche a mini abbastanza poco tattici E... ultimissima cosa Il mila non ha vinto Ahimè contro l'atletico Quindi non sarà più quel contest di 50.000 credit Che avevo detto nel video precedente Quindi ragazzi Dato questo io vi saluto Dico utente A pala insieme al prossimo video Bola A pala insieme al prossimo video